Sei, Xenemsi, back home, cronaca, e questo è Massicci, sei, ah, cavalco dal sottosuolo musicale questo sottofondo Con quest'attitudine la scritta mollami sul volto, con più foga della forza che pensavo avessi incorto Vi presentiamo oggi un giovane talento del rap gelese, Edoardo Di Mattia Hai presentato qualche giorno fa il tuo primo lavoro discografico, tu sei un rapper, da quanto tempo? Com'è nata la tua passione per questo genere di musica? E poi parleremo anche dei progetti Io faccio questo genere da quando avevo 12 anni praticamente, quando mi sono appassionato anche grazie a mio fratello Al genere musicale, insomma, ho cominciato a scrivere i primi testi quando ero piccolo La passione è stata sempre crescente, ho realizzato il mio primo album con Corrado Ruvio e Cristian Bonifacio Nel 2015, due anni fa, con il progetto dei Fresh Fellas E poi quest'anno, diciamo, sono arrivata alla motorità di poter realizzare un album personale da solista 16 tracce, nonostante la tua giovanissima età, da dove è nata l'ispirazione per queste 16 tracce? Che cosa racconti con queste canzoni? Eh, diciamo, aspetti quotidiani della vita, di tutti i giorni Ci sono canzoni, diciamo, ci sono pezzi più tristi, pezzi più malinconici, pezzi più allegri Diciamo, tutte le quotidiane problematiche che ci siamo trovati ad affrontare C'è anche un pezzo per un nostro amico che non c'è più Diciamo, si affrontano temi importanti e anche temi, insomma, più alla portata di tutti E quindi la tua ispirazione è sostanzialmente la vita quotidiana della gente comune? Sì, sì, assolutamente Bene, questo lavoro è fruibile da chi? Cioè, chiunque può scaricarlo o ascoltarlo? Sì, sì, assolutamente È presente su YouTube, si può ascoltare gratuitamente Poi si può scaricare gratuitamente su Mediafire Sulla mia pagina Facebook c'è appunto tutti i link Tutti gli indirizzi da cui sono scaricabili tutte le informazioni e l'album in sé Quanto ha cambiato la vita artistica di un giovane talento la digitalizzazione? Cioè, adesso è un mondo completamente diverso Prima bisognava acquistare il CD Altrimenti la musica non poteva essere fruibile in altro modo Invece è cambiato tutto Sì, sì, assolutamente Anche per quanto riguarda la lavorazione del disco Che è personalmente operato a costo zero E poi anche tutta la possibilità di metterlo online Di fare diciamo promozione anche con poco E di rendere disponibile appunto il disco a tutti Ad esempio se già anche rispetto a due anni fa ha avuto più promozione Perché il primo disco ha avuto un buon riscontro locale Ma quest'ultimo lavoro ha fatto 600 download in due giorni E diciamo che è un buon traguardo specialmente per il territorio gelese Grazie a tutti